buonasera a voi signori buonasera ben arrivati grazie per esserci venuti per essermi venuti a trovare qui siamo masseria barbera nella nella mia masseria nella mia nella mia tenuta nella mia proprietà questa attività che ho iniziato ormai da 21 anni mi riferisco soprattutto all'attività dell'agriturismo del ristorante in sé soprattutto perché poi l'azienda agricola agricola ha origini ben più ben più remote